Antonio Tomezzoli, Presidente del Consorzio Veronese di Bonifica. Secondo i dati diffusi oggi a Roma, il 90% degli agricoltori veneti utilizza i sistemi consorziali di irrigazione. Certo, dall'indagine SVG si evidenzia che la maggior parte del mondo agricolo utilizza i sistemi organizzati dei consorzi di bonifica. Ma da questi due giorni si è anche messo in evidenza la grande importanza dell'acqua e l'occulata gestione che questi sistemi organizzati fanno a favore dell'agricoltura ma fanno anche a favore dell'ambiente. Un'acqua è una risorsa sempre più preziosa, sempre più importante non solo per il mondo agricolo, per i prodotti, per questo famoso made in Italy, ma importantissima anche per una gestione ambientale che è la base principale dell'attività che viene chiesta ormai a gran voce anche dalla popolazione civile ai consorzi di bonifica. Qual è il sistema di irrigazione del futuro? Il sistema di irrigazione del futuro sarà quello che porterà a risparmiare l'acqua. Non perché l'acqua adesso si sprechi, perché l'acqua adesso si consuma in agricoltura, si utilizza, non si consuma e si rilascia alle faglie sotterranee. Però viene da sé che l'utilizzo in grandi quantità è anche uno spreco economico che il consorzio di bonifica cerca di limitare il più possibile, magari utilizzando questi risparmi d'acqua per far sì che venga utilizzata per scopi ambientali, zone umide o quant'altro. Si parla quindi di irrigazione localizzata? Sicuramente, il futuro sarà lì, sarà un'irrigazione localizzata, sarà un'irrigazione che farà riferimento a dei software satellitari che danno il necessario utilizzo e consumo d'acqua cultura per cultura, sarà un'irrigazione che tenderà a fare bacini di laminazione, quindi serbatoi nei momenti di piovosità per utilizzarli nei momenti di magra. Sarà una gestione sempre più affidata alla capacità che hanno i consorzi di bonifica di gestire questa risorsa che a volte è troppo e quindi è dannosissima, procura tragedie e a volte invece è veramente scarsa e quindi procura siccità e difficoltà di attività agricola.